La presenza è il terzo incontro che abbiamo organizzato in collaborazione con l'Adi. Io un piccolo rientro nell'audio, spero che non crei problemi. Ringrazio i tre architetti, Andrea Gliandoli, Paolo Pampanoni, Giuliana Zoppis. È curiosa la vita perché con tutti a questo punto ci sono legami. Con Paolo Pampanoni stiamo organizzando insieme a Raoul Castelli alcuni eventi. Andrea Gliandoli ho visto dalla mia stessa formazione perché viene da un dottorato in rilievo dell'architettura, del costruito. Adesso non so se lui ha aderito alla scuola di Anna Sgrosso o di Adriana Bacu. Io ho insegnato per un po' di anni alla Seconda Università di Napoli, quindi probabilmente avremo anche delle conoscenze in comune. Giuliana Zoppis, abbiamo visto che condividiamo il DNA e Ugubino e ne siamo orgogliosi. Allora, una bellissima presentazione per voi che non ci conoscete, soprattutto. Divido velocemente. Noi abbiamo una triennale e una specialistica. La triennale in design volutamente generalista, però ha una peculiarità che la rende unica in Italia. è stata attivata in sinergia tra un dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e l'Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci di Perugia. Quindi capite che in qualche modo c'è un humus culturale, è una scommessa praticamente. I nostri studenti hanno sia materie tecnico-scientifiche, sia materie artistiche, nel mezzo del design, che fa da collante al tutto. In questo momento siamo piuttosto soddisfatti dei risultati. Ma ciò che mi sta a cuore, e io chiederei a Daniela di riportare questa domanda in conclusione come stimolo, come sollecitazione, perché io devo riprendere la giunta d'Ateneo che si sta svolgendo, perché adesso noi giochiamo su tutti i tavoli con questi collegamenti. Vi chiedo scusa, mi vedrò la registrazione, però io terrei moltissimo che l'architetto, designer Giuliana Zoppis potesse anche parlare ai nostri studenti dell'utilità di questa specialistica che abbiamo appena attivato in Planet Life Design, in design per la vita del pianeta. L'abbiamo attivata insieme, proprio non a caso, alla Seconda Università degli Studi di Napoli, in sinergia, insieme a Patrizia Aranzo in particolare. È ubicata ad Assisi, a Palazzo Bernabèi, e la sede di Assisi, dove la Università degli Studi di Perugia ha un palazzo prestigioso seicentesco, non è casuale, è assolutamente voluta, perché nel tempo noi immaginiamo di trasformare questo bienio specialistico, questa laurea specialistica, in una laurea internazionale, proprio per la vocazione internazionale di Assisi. Quindi, probabilmente anche Luca Molinari, che sentivo citato prima, che è un amico, forse, insegnando nella seconda università della campagna, adesso si chiama, forse divideremo insieme un CFU di composizione architettonica all'interno di questa laurea specialistica. Quindi ringrazio nuovamente tutti voi per essere intervenuti, sarà sicuramente un contributo molto importante per i nostri studenti, e rinnovo l'invito a Daniela, in conclusione a, vista la vocazione dell'architetto Zoppis, a sollecitarla su un commento sulla positività, sulle prospettive di un designer impegnato nel Planet Life Design. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie mille. Grazie, grazie. Grazie professor Belardi, ringrazio tutti i presenti e soprattutto Adi per aver organizzato questo ciclo di appuntamenti online che permette agli studenti di conoscere le esperienze professionali dei principali progettisti italiani. Io mi presento brevemente, sono Daniela Pezzolla, per questo anno accademico sono docente di principi di nutrizione vegetale nell'ambito dell'insegnamento di Garden Design, che il prossimo anno sarà archito con l'approfondimento appunto delle tematiche ambientali, assumendo la connotazione di modulo di design per l'ambiente. Auspico una partecipazione attiva degli studenti perché sia una vera occasione questa di crescita professionale e soprattutto arricchimento culturale. Siete invitati quindi a cogliere questa opportunità ponendo i quesiti che riterrete possano essere di interesse comune e di interesse individuale. Nient'altro, a questo punto passo la parola ad Andrea Iandoli, all'architetto Andrea Iandoli, come Comitato Coordinamento del Dipartimento Progettisti ADI. Sì, grazie. E allora, buongiorno a tutti, tutti i presenti. E volevo ringraziare innanzitutto l'Università di Perugia per aver aderito al progetto. E questo è il terzo incontro, come si diceva. Per quello che abbiamo riscontrato, le varie università hanno ricevuto un riscontro positivo per questa iniziativa che riprende un po' un'iniziativa già fatta in passato, che appunto si chiamava Impresa Docent, fatta da Agli. Quest'anno però abbiamo pensato, come coordinamento del Dipartimento Progettisti, di provare a fare un'iniziativa diversa e anche più legata ad un contatto con il mondo della formazione, con quelli che staranno, diciamo, i futuri designer. Quindi l'associazione come comunità prova ad aprirsi e a farsi conoscere da questi giovani studenti nel mondo del design, volendo divenire un po' un riferimento appunto anche per loro. Quindi credo che già in passato qualcuno dei precedenti incontri ha raccontato l'associazione, mi limito solo a dire che è un'associazione che ha più di 60 anni, che è fatta di vari dipartimenti, tra cui appunto quello delle imprese, quello della distribuzione, quello del Dipartimento Generale, che è un dipartimento che racchiude tutte le facoltà, o quasi tutte quelle in Italia, di design, il mondo della cultura, il mondo dei critici appunto del design e poi il Dipartimento dei Progettisti, del quale io con Ambrogio Rossari, Antonella Andriani, Federico Del Rosso e Davide Vercelli che siamo i coordinatori, che abbiamo appunto portato avanti, costruito questo progetto e portato avanti, che speriamo che possa essere in presenza in una seconda tornata. Per rispondere un attimo al professor Belaglisi, io sono un dottore di ricerca in rilievo e rappresentazione del costruito, ero un allievo del professore Gravagnuolo e poi sono stato allievo di Adriana Baglio, anche se avevo uno splendido rapporto anche con Anna Sgrosso, che invece era un taglio più legato al disegno, diciamo, alla geometria, ecco, quindi un taglio, diciamo, nell'ambito del disegno più legato al mondo della geometria. E comunque, diciamo, ormai, diciamo, in questa sede siamo quasi tutti architetti che appunto vi raccontano, vi parlano della propria formazione, del proprio lavoro e tantissimi appunto sono quelli sociali che hanno dato la propria disponibilità. Però oggi ci affacciamo a un mondo, diciamo, diverso, dove la scuola, l'università si è specializzata appunto nel segmento che è la formazione del design. Quindi voi, diciamo, come futuri designer non afferirete a quello che è il mondo professionale degli architetti e quindi al mondo professionale quello che viene definito ordinistico, perché appunto ci sono queste associazioni ordinistiche con ordine degli ingegneri, degli architetti. Però quello che dovete sapere è che ADI, che è un'associazione con una grandissima tradizione, come dicevamo, a più di 60 anni, è un'associazione che è accreditata da alcuni anni presso il MIS, che è il Ministero dello Sviluppo Economico. E noi siamo appunto un'associazione accreditata e siamo, rientriamo tra il novero delle associazioni che si chiamano appunto disciplinate dalla legge del 2013 sulle associazioni non ordinistiche. Quindi in qualche maniera rappresentiamo e costituiamo comunque anche un punto di riferimento per quanto riguarda il mondo associativo, diciamo, dei designer. e che poi, diciamo, attraverso un percorso che stiamo continuando a fare, confluisce in una possibilità appunto di collegarsi al mondo di Confu Commercio Professione. È un progetto che stiamo portando avanti affinché appunto possa l'associazione diventare un riferimento per tutta la comunità dei designer e soprattutto per tutti questi giovani che si stanno formando nel design appunto come associazioni in cui possano tutti confluire per essere accolti sotto questo unico cappello di associazioni non ordinistiche. Un'altra cosa che volevo segnalare, ma magari poi ce ne parlerà se vuole anche la Giuliana Zoppis, che da pochi giorni è stato aperto, l'Adi Design Museum, è un museo appunto che è stato aperto dall'associazione in quanto l'associazione gestisce il premio con passo d'oro. È un premio che nasce nel 1954 da un'idea di Geoponti, nasce come premio rinascente, poi il battezzato premio con passo d'oro e l'associazione aveva una collezione di tutti gli oggetti che sono stati premiati in 60 anni di premi. E quindi questa collezione nel 2004 è stata dichiarata di particolare interesse culturale dal Ministero appunto dei beni culturali. E quindi questa collezione storica è un patrimonio diciamo culturale della nazione, per cui attraverso un lungo percorso è stata attivata nelle procedure per le quali appunto si è avuto questo spazio dal comune di Milano e finalmente dopo anni di lavori e di difficoltà si è finalmente aperto questo museo che è interessantissimo. È stato aperto il 25 maggio scorso e sicuramente molto molto interessante soprattutto per i giovani studenti che possono trovare lì un racconto di tutto quello che è appunto non soltanto il design attraverso i pezzi iconici quelli che tutti conosciamo, ma è la vera e propria storia del design di prodotti interessanti per le innovazioni che hanno portato e soprattutto prodotti che segnano le varie tappe diciamo del prodotto industriale e del design attraverso i pezzi iconici che hanno portato un po' di dibattito e lascio la parola di nuovo a Daniella forse che poi magari riprendiamo dopo per un po' di dibattito dopo l'intervento di Giuliana Giornetti. Direi che possiamo passare la parola all'architetto Pampanoni adesso. Grazie e buongiorno a tutti, vi ringrazio e presenzio a nome della AD Umbria. Io sono un designer che si è specializzato nel tempo in design del lavoro. Ahimè oggi vi chiamo da Milano, dal centro di Milano, da un albergo. ero prima in modalità, sono in modalità smart work perché la mia vita è itinerante tra le varie aziende che seguiamo in giro per Italia. Ha un senso però parlare di AD Umbria e ringrazio per questo l'Università di Perugia che ha attivato finalmente un percorso legato al design perché fare i designer e non occuparsi di prodotto industriale in Umbria e da l'Umbria è veramente complesso. La nostra è una piccola enclave di progettisti che ahimè stanno lontani in questo momento dai circuiti della produzione industriale, tant'è che il mio studio segue clienti dall'Abruzzo alla Lombardia, alla Friuli fino alla Lituania. in Umbria ci è rimasto ben poco e pertanto la collaborazione tra Università e ADI diventa soprattutto per gli studenti un'occasione veramente straordinaria per creare un indotto diffuso. Io quando mi dicono come mai abbia investito nuovamente in Umbria abbiamo inaugurato a gennaio un nuovo studio molto più grande ho sempre detto secondo me è importante opporsi all'emigrazione e fare in modo che ci sia, che si parli di disegno industriale non solo nei grandi distretti, nell'Abrianza o in Veneto nei grandi distretti industriali italiani ma anche in una regione come l'Umbria. Oggi abbiamo la fortuna di utilizzare mezzi che ci mettono in comunicazione e ci danno la possibilità di frequentare eventi come questo online. lavorare per le aziende, disegnare prodotti è difficile online la modalità diretta, l'essere in presenza a fianco dei materiali, dei prototipi e delle linee produttive è sempre importante. Oggi ADI Umbria si sta organizzando per fare in modo di creare un tessuto di professionalità giovani che grazie all'attivazione del piano di student design molto articolato e diffuso che ha brevemente anticipato il professor Belardi dà al nostro territorio un grande spunto occupazionale, creativo e che è importante poi condividere e diffondere in tutto il territorio. domani sarò anch'io, come diceva l'architetto Iandoli, domani sarò anch'io a vedere il museo del disegno industriale. È un'occasione straordinaria quando io ebbi la fortuna di vedere quegli spazi mentre li stavano allestendo, dissi proprio ai miei accompagnatori, ai miei ospiti che questo è un modo per mostrare il genio creativo di tante aziende italiane e di tanti designers italiani. È un'occasione unica, noi che siamo abituati in Italia ad avere degli straordinari musei e pinacoteche, con opere antiche, disporre di un museo dell'innovazione, del disegno e della creatività è fondamentale per noi e per voi studenti. Cedo la parola a Giuliana Zoppis, che meglio di me saprà infondere in voi un entusiasmo diverso e una profondità di lettura dei fenomeni della creatività. Ti ringrazio e incerdo appunto la parola a Giuliana. Grazie. Grazie, grazie mille. Allora, sono molto contenta di essere qui con voi. Come dicevo prima, la mia mezza anima umbra mi emoziona a sentirmi in un contesto di questo genere. La mia passione, il mio percorso professionale, dopo lo vedremo nel dettaglio, mi ha portato ad abbracciare dei valori che sono quelli dell'abitare sostenibile e del design sistemico. Quindi accolgo davvero con gioia quello che prima ci spiegava l'architetto Belardi di questo progetto di Planet Life Design, che apre un biennio specializzato anche a livello internazionale, perché è un modo proprio per entrare nel vivo delle questioni cruciali del presente. Ci sono delle facoltà estere che si sono già indirizzate negli ultimi anni in questo orientamento. Prima fra tutte abbiamo Londra e lo stesso Design Council, ma questa cosa ci porta nel vivo. Quindi mi piacerà molto seguire il percorso di Planet Life Design. Assisi una sede, una cornice fantastica. Abbiamo molti bravi specialisti, esperti delle varie discipline, perché il design sistemico e quello che si orienta al design per il pianeta implica un misto di competenze. Infatti sono contenta che Daniela Pezzolla sia con noi, perché Garden Design e i principi nutritivi vegetali sono un'altra delle grandi componenti del design per l'ambiente e per il pianeta. Quindi tutti insieme, progettisti, urbanisti designer, biologi, esperti di materiali, abbiamo la possibilità, più si allarga lo spettro, di mettere a fuoco una serie di servizi, di progetti utili davvero per il pianeta. Io a questo punto comincerei subito con la presentazione, perché siamo quasi alle 13, quindi condivido il mio pannello. Spero che lo vediate tutti, poi mi dirà Daniela se va tutto bene. Eccoci qua, allora. Vedete il… È necessario… ok, perfetto. Ci siete? Ci siamo. Oh, molto bene. Allora, il mio percorso nasce a metà degli anni 70 con l'iscrizione alla Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano. La tesi che ho poi… che chiuse questo primo percorso dei cinque anni della Facoltà proprio era l'edilizia come annello di un ecosistema. Quindi questo per dirvi che già dai primi passi la vita mi ha portato a identificare come il progetto dal cucchiaio alla città sia parte di un ecosistema unico. Durante la mia formazione ho subito cominciato, e questo è stato… gli studenti si devono rendere conto che venendo da un percorso iniziato a metà degli anni 70 noi abbiamo potuto beneficiare di una condizione economica e sociale molto diversa dall'attuale. Si poteva permettersi di scegliere anche un'attività di lavoro mentre si studiava. Io ho avuto questa opportunità perché mi chiamò il primo service dell'editoria al primo anno di formazione al Politecnico. Mi chiamò il primo service che era una struttura che forniva servizi editoriali per tutte le case editrici. Quindi io lì ho fatto una formazione parallela molto interessante, è stata casuale, che poi ha segnato il mio destino. Perché pur proseguendo il cammino della bioedilizia dell'ecosistema come contesto progettuale ho potuto seguire anche tutto il mondo dell'interior design e del design. Qui vedete in questa prima slide le prime tappe perché seguendo il mio relatore di tesi allora era Carlo Santi che anche lì un'altra casualità per me molto positiva era il marito della Franca Santi Gualtieri uno dei primi grandi direttori di Abitare che dirigeva Italo Lupi ne faceva l'art director siccome ho cominciato subito a mettere in pratica questa ricerca della bioedilizia e della bioarchitettura facendo anche dei viaggi negli Stati Uniti mi diedero molto spazio devo dire sono molto contenta avevo allora un compagno fotografo quindi noi potevamo fare dei reportage le mie vacanze le passavo a lavorare di nuovo però in un modo molto interessante sul campo e a documentare la migliore bioarchitettura quindi ho potuto conoscere dei professionisti che poi sono diventati degli eccellenti architetti in questo percorso solare legato all'abitazione tipo Rob Wellington Quigley lo stesso Frank Geary allora che era un giovane architetto californiano lui stava sperimentando il riuso di materiali da recupero di cantiere e quindi questa doppia anima è stata molto utile per me da misurare sul campo nel frattempo Milano è sempre stata una culla di ricerca e di innovazione e ho avuto la possibilità e la fortuna di incrociarmi con Mario Schakenbauer architetto Cesare Reina un ingegnere Mario Schakenbauer in particolare è stato un vero visionario nella questione dell'energia applicata all'abitazione il bilancio energetico dell'abitazione dei primi anni 80 hanno visto l'insieme delle sue competenze è ancora vivo Mario Schakenbauer è del 31 quindi adesso ha 81 anni ed è ancora attivo perché sta continuando il suo percorso è una specie di architetto inventore ecco un altro modo con la sua competenza tecnologica anche ingegneristica non a caso Reina ha fatto con lui questo grande studio del bilancio energetico dell'abitazione ha messo insieme una serie di sistemi di industrializzazione edilizia allora super innovativi utilizzando la prefabbricazione con sistemi misti insieme a delle plastiche durevoli attossiche che lui aveva messo a punto per moduli in prefabbricazione leggera per l'istituto delle case popolari ha messo a punto i primi pannelli solari per le abitazioni allora erano dei prototipi e i primi sistemi di mobilità elettrica e adesso svetta nell'isola d'Elba con la sua bici a pannelli fotovoltaici con una copertura solare che fa anche da antipioggia cioè per cui è un vero personaggio ecco ho collaborato alla rilettura di tutti i testi del bilancio energetico dell'abitazione fornendo immagini dall'altra parte le prime esperienze con i magazine quindi l'editoria a Milano era molto presente in quegli anni c'erano tantissimi giornali grazie a queste esperienze solari ed energetiche sul campo sono stata chiamata dalla Rizzoli a collaborare con Brava Casa e ho potuto fare i primi allegati specifici uno era tutto sull'energia in casa l'altro si chiamava il preta posé che alludeva al pret della moda ma in questo caso era un posé nel senso che tutte le cose pronte da inserire nell'abitazione sia come strumenti e dispositivi sia come componenti costruttive se pensate che allora questi allegati andavano in edicola a 400.000 copie per me è stato come un tuffo nessuno poteva pensare di fare un libro e avere più di mille copie in libreria invece grazie a questi allegati di questi grandi mensili che hanno fatto la storia del design e dello studio delle tecnologie legate all'abitare in Italia ho potuto subito entrare nel vivo anche del contatto con il lettore tanto è vero che con Amica mi chiamò poi a fare questa serie di allegati che vedete qua si chiamano Casa Pratica eccetera erano tanti che erano allegati a Settimanale Amica anche lì centinaia di migliaia di copie quindi mi sono trovata in questo mondo che poi mi ha catturato per cui la mia formazione architettonica nel progetto è diventata un comunicare la progettazione comunicare la progettazione sostenibile questo proprio è diventato il mio futuro il mio presente da 40 anni e passa un altro mondo molto interessante insieme a quello dell'architettura e dell'urbanistica e dell'energia dimenticavo che allora mentre facevo la facoltà come preside avevo Bernardo Secchi grandissimo urbanista che è morto nel 2014 è stato direttore di alcune delle testate più interessanti grande collaboratore del Casa Bella di Rogers e Gregotti per cui la formazione urbanistica ha avuto quel cappello lì insieme a De Carlo e per quanto mi riguarda all'autocostruzione di mari nel mondo dell'interior design che è l'altra metà proprio della mia formazione Giano Bifronte perché lavoravo per dei magazine di design e interior design questo nella primissima fase dei primi anni primi 15 anni ho avuto anche lì la fortuna di incrociare perché Milano è una specie di proprio di hub non è una grande città intendiamoci non è né Londra né New York né Hong Kong però ha quella dimensione di città abbastanza dinamica ed estesa ma al tempo stesso contenuta che si può avere la fortuna di incrociare nei luoghi della cultura le gallerie negli eventi che si possono ritrovare tra design arte e architettura a molti personaggi Rosanna Monzini insieme ad altri architetti dell'interior design di qualità è stata per me un altro di questi incontri illuminanti come Secchi come De Carlo come Schickenbauer o Frengeri con Rosanna Monzini ho avuto modo di avvicinare quella progettazione dell'interior lei per dire faceva parte di una famiglia borghese illuminata le cui case venivano già fatte allora da alcuni dei protagonisti della della progettazione italiana più più di qualità Viganò eccetera è stata una delle prime a usare le putrelle a vista le travi a vista in ferro nelle abitazioni senza temere di scandalizzare nessuno perché ogni oggetto rispecchiava la sua funzione con una forma molto essenziale e contenuta e con delle armonie date dalla luce dei volumi quindi ecco tutto questo insieme ha fatto sì che io mi focalizzassi sempre di più nella qualità del progetto il buon design quello che appunto in Inghilterra negli Stati Uniti veniva già chiamato good design e poi il design ecologico per eccellenza cioè il buon progetto come vedrete all'Adi Design Museum dove c'è adesso presente questa declinazione da cucchiaio alla città dove vedrete dal tessile alla mobilità all'oggettistica per illuminare e per creare i momenti conviviali nelle case ai mobili e i componenti tecnologici di ogni genere anche di utilizzo domestico concreto nella quotidianità vedrete una delegazione una declinazione di buon progetto di good design e di fatti probabilmente se uno avesse voglia di fare un itinerario sostenibile attraverso l'attuale museo del design del compasso d'oro di Milano di Adi davvero potrebbe trovare il fulcro di un tracciato che già declina tante qualità del buon design e quindi del design ecologico ma passando agli strumenti che io consiglio a chi si vuole affacciare a questo mondo anche con con un tracciato sicuro ecco come dire con dei parametri certi che lo possono guidare per me in quanto giornalista specializzata nel settore consapevole dei risvolti ambientali e sociali di ogni processo e prodotto mi sono posta con questo sguardo a 360 gradi del mondo del progetto quindi di tutto il ciclo di vita di materiali servizi e processi grazie a una serie di strumenti il primo degli strumenti perché a cui il designer è chiamato diciamo se vuole avvicinare questo ruolo di di analizzare e di creare dei nuovi modelli di produzione di consumo sostenibili che viene in aiuto quindi il primo strumento di grande efficacia è quello del metodo di calcolo della LCA la Life Cycle Assessment quindi l'analisi del ciclo di vita di tutte le fasi di un prodotto dal reperimento delle materie prime alla dismissione del prodotto questo LCA a un certo punto ha generato il Politecnico di Milano che era molto in contatto con altre università del mondo nord europeo grazie al lavoro di alcuni architetti progettisti molto attenti a questi ambiti ha generato una disciplina progettuale che si è chiamata come vedete qui Life Cycle Design gli architetti Ezio Manzini e Vezzoli e Proserpio che guidavano già allora in modo molto visionario un istituto di un dipartimento proprio che andava al cuore di queste tematiche misero appunto un sistema che si chiamava appunto Life Cycle Design dove il progetto quindi il design nel senso di progetto è al cuore di tutto il ciclo di vita di ogni prodotto a seconda di come indirizzi il progetto se tieni a mente anche il contesto ambientale il reperimento delle risorse l'utilizzo la dismissione e una nuova vita attraverso il riutilizzo di materie prime e seconde non puoi che generare del buon design quindi il terzo questi due apro una piccola parentesi poi la vedremo dopo questi due simboli del Life Cycle Design nascono da un workshop che con la mia associazione di cui poi vi parlerò che si chiama Best Up Bello Eco Sostenibile circuito per la promozione dell'abitare sostenibile facciamo al Politecnico di Milano qualche anno fa una decina d'anni fa con gli studenti andiamo ad analizzare quindi questi questi parametri questi valori di ogni impatto che sull'ambiente che genera un prodotto attraverso ogni singolo punto di questo percorso del Life Cycle con l'intento di trovare dei simboli grafici che potessero essere messi all'interno di una ipotetica e auspicabile carta di identità dei singoli prodotti che era il cartellino diciamo delle caratteristiche tecniche ma più approfondito e alla fine vinse il simbolo che vedete più grande a sinistra di questo prato che simula un codice a barre e che dava subito l'idea del fatto che quel prodotto lì era un'espressione di Eco Design di design per l'ambiente il secondo era quest'altro che ha un diciamo un aspetto più il young ma che comunque vedeva il cuore e la foglia insomma quindi l'attenzione all'umano e alle altre forme di vita dell'ambiente all'interno del ciclo il terzo grande motore e attore della ricerca per gli Eco Designer è diventato il Cradle to Cradle in italiano vuol dire dalla culla alla culla è un approccio sistemico che fu messo a punto nel 2002 da Michael Brangard che è un designer tedesco e William Mcdonald americano che si misero insieme e che vollero proprio creare un sistema di lettura ma non solo una certificazione fu una nuova certificazione di riferimento a livello mondiale molto interessante e che si poneva il compito di celebrare un mondo di abbondanza e di crescita quindi non la decrescita secondo diciamo la visione più francofona di questa analisi dell'ambiente e dei prodotti all'interno dell'ambiente e dei cicli ma nel rispetto di uno sviluppo sostenibile per l'ambiente per la società e per l'economia quindi un'analisi che non faceva sconti a nessuno ma che puntava a una nuova crescita attraverso quattro criteri che io vi consiglio poi di prendere in considerazione i due professori adesso sono spesso itineranti ad esempio io ho incontrato Brangard nel 17 come vedete qui alla fondazione Cariplo dove tenne una serie di lezioni magistrali di grande interesse e se andate a seguire il loro sito Cradle to Cradle ci sono gli appuntamenti dei due esperti nel mondo in questo caso vedete due questa è proprio una slide in cui ho messo insieme due aspetti significativi della lettura del Cradle to Cradle quindi da una parte quello che loro chiamano il riciclo primitivo cioè all'interno per esempio di un cellulare ci sono 41 elementi diversi minerali metallici plastici eccetera solo 9 sono riciclabili e riciclati non solo l'obsolescenza programmata dei singoli componenti fa sì che a un certo punto pur essendo ancora estremamente funzionante un telefonino non ci accompagna più con la stessa efficacia perché le app evolvono certi linguaggi all'interno della comunicazione digitale evolvono per cui risultano obsoleti e ci tocca metterli in un cassetto e comprarne uno nuovo e questo secondo il Cradle to Cradle è uno scandalo mentre invece si potrebbero almeno ridisassemblare nei 41 elementi di origine e generare dei cicli di riuso magari in altri ambiti possibilmente diretti a funzioni sempre di interesse diciamo diffuso di massa l'altra parte di questa slide riguarda la perdita di suolo che è un altro degli scandali del presente dell'attualità perché la perdita di suolo genera una perdita di di nutrimento per tutte le forme del pianeta e questo avviene per una serie di meccanismi che purtroppo riguardano non solo il reperimento di riserve naturali in un modo massivo e poco attento agli equilibri del pianeta ma anche all'uso di diservanti e all'abbandono di tecniche che abbiamo tutti nelle nostre tradizioni in Italia abbiamo ancora un'agricoltura di prossimità molto ricca di attenzione di pratiche di cura dell'ambiente che sarebbe interessate recuperare in parte vengono già recuperate se pensate che i giovani oggi italiani dagli ultimi dati delle ricerche sulla popolazione sembra che abbraccino più volentieri con un più 8% la massa dei giovani le attività dell'agroalimentare in gruppi o in piccole comunità riescono diciamo ad attivare delle cooperative delle aziende agricole di successo proprio facendo leva su permacoltura e tecniche di coltivazione diciamo della tradizione locale non a caso tornando al credolo tu credolo ancora un attimo il primo criterio perché sono quattro i criteri base del C2C il primo è we are native to our place cioè siamo noi proveniamo dal nostro luogo intende incoraggiare la valorizzazione delle risorse locali e dei materiali che provengono dai siti di appartenenza questo è il primo principio il secondo waste uguale food i rifiuti sono un nutrimento si propone di motivare a ridisegnare ecologicamente i processi industriali introducendo cicli di vita di prodotti tendenzialmente senza rifiuti perché ispirati ai sistemi naturali dove ciò che una specie abbandona come rifiuto viene utilizzato da altre e rimesso in circolo questo è il punto due il terzo criterio sun uguale our income il sole è il nostro guadagno serve a ispirare pratiche che massimizzano il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili in quanto risorsa bene comune il quarto e ultimo elemento della lettura credo il tu credo che viene poi applicata a tutto appunto come vediamo dalla telefonia ai sistemi di di cultivazione è celebrate diversity quindi celebrare la diversità promuovere la diversità biologica culturale e concettuale in tutte le sfere della vita questo questo punto che adesso vediamo nella slide che vede il sistema biologico di metabolizzazione dei processi dei materiali unito al sistema tecnologico mette in luce un altro strumento per chi lavora nelle imprese nelle associazioni negli enti pubblici e nelle scuole che progettano producono e distribuiscono oggetti e servizi di design e di progetto architettonico si connette alla lettura credo il tu credo non a caso sono due cerchi dalla culla alla culla tutto torna poi a rigenerare nuovi processi sia organici biologici sia tecnologici e quindi la cosa positiva cos'è che nel tempo quindi dal 2014 particolare c'è stata finalmente un'adozione a livello della comunità europea delle linee guida verso un'economia circolare questa è una sintesi dell'economia circolare a tutto tondo quindi attraverso un percorso che deve necessariamente ripensare il rapporto uomo natura e che mette in luce buoni esempi di progettazione e design la commissione europea nell'ambito della strategia europa 20-20 che adesso si sta riproiettando su altri progetti che vedono delle tappe al 20-30 e al 20-50 e del programma vivere bene entro i limiti del nostro pianeta e quindi mi ricollego al design al planet life design di cui si parlava di cui ci parlava l'architetto Belardi il professor Belardi all'interno quindi di questo programma dichiara di voler cogliere tutte le opportunità che si presentano con il passaggio all'economia verde a basso impiego di carbonio e che fa uso efficiente di energie e risorse l'economia circolare entra e ormai è entrata dal 14 adesso ci sono già degli ambiti operativi soprattutto a livello di packaging tra gli obiettivi di ogni paese che aderisce alla comunità europea quindi prima di tutti il punto primo che non bisognerà mai dimenticare poi ce lo ritroveremo ancora perché io faccio un tormentone continuo su questa cosa in ogni aspetto aumentare la durata dei prodotti la durabilità dei prodotti è la ricetta prima per combattere la generazione di rifiuti e quindi di masse tossiche e quindi di problematiche di tutti i tipi a livello di stoccaggio nella natura eccetera eccetera quindi aumentare la durata dei prodotti creare mercati per i materiali riciclabili perché se non crei mercato chi genera materie prime che possono diventare seconde poi dopo un po' non sa più dove metterle per esempio c'è un aspetto che è molto attuale sull'eolico quindi sulla energia eolica e le tecnologie eoliche negli Stati Uniti nel Massachusetts hanno creato degli stoccaggi enormi per le pale eoliche perché dopo un tot di anni anche lì c'è un'obsolescenza soprattutto a contatto con venti molto forti e soprattutto sui diciamo sulle tecnologie e quindi i prodotti che erano usciti all'inizio di questo di questa di questo nuovo mercato dell'eolico rispetto agli attuali dopo 12 anni il pilone reggeva ma le pale no quindi cosa succede che ci si trova questo in tutto il mondo anche nel nostro sud dove ci sono dei parchi eolici adesso di una certa consistenza un problema grosso ed è un vero peccato perché tu hai la generazione di energia rinnovabile ma al tempo stesso dopo 12 anni le pale ti si rompono e non sono più efficaci non girano più come dovrebbero girare si storcono eccetera quindi vanno cambiate le vecchie dove vanno per il momento le stanno sotterrando a 30 metri dal suolo questo negli Stati Uniti ma il fatto che la comunità europea dice oltre alla durata del prodotto pensiamo a come creare nuovi mercati per i materiali riciclabili vuol dire che come sta già succedendo in Ohio per esempio per fortuna e spero succeda anche da noi si creano delle aziende che si specializzano nel triturare queste pale che essendo fatte in fibra di vetro e altre componenti non riescono a essere reimmesse facilmente in un sistema di materia prima seconda però se si riescono a sminuzzare fini fini possono entrare ad esempio nella fabbricazione di pavimentazioni stradali e di sistemi edilizi questo è un altro punto quindi fondamentale il terzo punto che segnala la commissione europea è ridurre l'uso di ciò che è difficile riciclare e qui ci connettiamo prima se si riuscisse a trovare una nuova lega per far sì che le pale eoliche per esempio non impieghino più la fibra di vetro bensì qualche altra lega metallica o di qualche altra fibra innovativa ma reperibile sul mercato si promuoverebbe quindi un'industria quindi un eco design che rende più facile tutto la manutenzione la riparazione eccetera a questo punto infatti io torner farei questo quest'altro passaggio che in questo insisto un po' dopo andremo in modo più fluido magari su argomenti anche di attrazione ma questo io trovo che sia molto importante perché passando da quello che ci dicevamo ciclo di vita del prodotto life cycle design quindi il progetto al cuore della progettazione cradle to cradle dalla culla alla culla tutto si deve rigenerare sia nel ciclo tecnologico che naturale economia circolare dunque un'economia in cui i rifiuti di un processo di produzione e consumo circolano come nuovo ingresso in altre produzioni quindi un'economia industriale che è concettualmente rigenerativa e riproduce quindi diciamo nuovi sistemi altrettanto efficaci di quelli iniziali ci ritroviamo proprio a ottenere dei nuovi prodotti che sono ricostruiti ma che hanno lo stesso valore pur impiegando degli scarti industriali ci troviamo qua davanti a una classica sedia e questa cosa ci riconnette all'aspetto a un aspetto molto cruciale del riciclo riuso che è la plastica questa mattina ascoltando il TG3 per esempio ho sentito il giornalista che teneva la rassegna stampa citare una intervista di Mario Tozzi contro la vita usa e getta della plastica un aspetto cruciale a proposito di questo incendio nell'oceano indiano di una un cargo navale che stava trasportando rifiuti plastici dall'India quindi noi sappiamo ormai purtroppo che questa cosa genera dei disastri anche nella catena alimentare perché entra nelle micro nel plankton quindi questa è un micro struttura nutritiva dei mari e quindi nei pesci eccetera eccetera già un anno fa io mi ricordo che scrissi una serie di di news per il magazine per cui adesso lavoro che è il D della Repubblica e di casa l'ha legato sulla problematica post durante pandemia e lo sarà anche post dell'utilizzo massivo di mascherine e guanti in in plastica la plastica è stata anche una grossa risorsa e vediamoci in questa in questo frangente ed è proprio per questo che la plastica va riabilitata va riabilitata ma per usi durevoli non per l'usa e getta come dice il Mario Tozzi quindi bisogna trovare delle soluzioni per l'usa e getta in questo caso io vi mostro un prodotto esemplare perché così ci fa chiudere un attimo il cerchio della lettura della cradle to cradle quindi è questa che vedete è un upgrade di una prima versione di questa sedia che fu che si chiama Babila questa è la Babila XL extra large una sedia in polipropilene riciclato in questo caso disegnata da Odo Fioravanti per Pedrali questo è un prodotto del 19 ho ripreso una bella intervista che ha fatto una mia collega che si chiama Elisa Massoni che scrive anche su interni e che va dopo ve ne leggo due o tre pezzi perché intanto cosa salta fuori salta fuori che questa sedia è un prodotto esemplare perché perché l'energia impiegata per la produzione della sedia così come la vedete adesso nella versione upgrade eco proviene al 50% da pannelli fotovoltaici su tetti della fabbrica questa cosa è un ottimo risultato che grazie probabilmente anche ai bonus del ai super bonus del risparmio energetico ci ritroveremo spiego e spero ad avere più 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 impiegati non solo nelle abitazioni ma anche nelle strutture per l'agricoltura e per l'industria quindi pannelli fotovoltaici sui tetti danno il 50% dell'energia un impianto robotizzato procede alla verniciatura dei componenti in questo caso il componente è in in plastica in polipropilene riciclato nel caso servisse ma la scelta adesso hanno per il momento si incentra su questo grigio riciclo e la plastica deriva al 100% da riciclo in parte post consumo in parte dai materiali di scarto quando la scocca viene stampata cosa dice Odo Fioravanti e questo io lo trovo esemplare proprio per chi fa i primi passi per chi si vuole avvicinare al design per il pianeta ho disegnato delle sedie in plastica dice Fioravanti e ne sono state vendute due milioni di pezzi questa era la prima versione quella non eco ovviamente mi sono fatto delle domande la demonizzazione della plastica è un'operazione di semplificazione più o meno volontaria e pericolosa che non serve a risolvere i problemi di sostenibilità o a diffondere informazioni corrette il tema della sostenibilità è legato all'uso che si fa degli oggetti quindi io sottolineo molto l'importanza di questo aspetto che solleva il designer Fioravanti quindi oltre alla durata quindi alla massima durata possibile di un prodotto per la sua funzione c'è l'uso che si fa di un oggetto quindi alla relazione fra esseri umani e le cose quando mi dicono che un oggetto è solo bello mi viene da rispondere magari sarebbe già molto ma l'intensità di un bell'oggetto e del lavoro fatto per disegnarlo è quello che convincerà il proprietario chi lo acquista a usarlo per decenni e a non buttarlo mai almeno fino a che non si rompe una bella sedia di plastica per esempio come la Selene che fu disegnata da Vico Magistretti per Artemide nel 69 da allora in produzione è una garanzia di sostenibilità non c'è bisogno di produrla in materiali più sostenibili per renderla migliore perché la strategia corretta è fatta di una durabilità che è meccanica estetica e su un pensiero quindi sul fine vita ovviamente oltre a essere durevole e facile da utilizzare un oggetto per durare tanto e per garantire un ciclo dalla culla alla culla e che possa essere anche disassemblato in questo caso come vedete la sedia di pedrali ha delle gambe in legno che sono fissate alla scocca e la scocca diventano due soli componenti ci sono poi i gommini su cui poggia per il pavimento che vanno anche loro al riciclo plastico quindi sono due componenti più le viti che tengono che sostengono e l'eventuale struttura per abitare alla scocca che vanno nel riciclo metallico la plastica quindi che è un materiale di origine organico petrolio gas naturale sale sappiamo respira assorbe acqua ma si modifica nel tempo per esempio perde qualità estetiche e meccaniche a contatto con l'aria con il sole quindi si deteriora se lasciata all'aria e al sole e lo vediamo anche se abbiamo delle sedie al giardino lasciate impunemente fuori sotto gli agenti atmosferici dopo due anni vanno buttate e questo è invece una cosa che si può evitare con un uso fatto di pensiero responsabile quindi basta riporle impilandole sotto una tettoia o meglio ancora in un garage in una struttura legata alla casa per riciclarla post consumo la plastica occorre spesso aggiungere del materiale vergine questo succede se la plastica non è di buona qualità diciamo se il polipropilene è mischiato ad altre plastiche che non hanno la stessa le stesse valenze hanno bisogno di avere una percettuale piccola però insomma in questo caso noi diciamo quindi la plastica può essere riciclata non all'infinito ma può rientrare tra i materiali che possono generare una seconda vita se non legati all'usa e getta quindi questo è un aspetto che ci tenevo a sottolineare perché è uno dei anche come dire dei nodi che vengono abbracciati da da coloro che si oppongono a un design sostenibile cos'è cos'è il design sostenibile è un design fra sostenibilità e sviluppo come dicevamo tante sono le definizioni che si sono dette sul concetto di sostenibile per esempio nel 67 durante la conferenza dell'UNESCO dal titolo uso e conservazione della biosfera ci fu una definizione che poi venne sintetizzata nell'87 da Gro Harlem Brundtland che era la coordinatrice di un tavolo di lavoro a livello delle Nazioni Unite per la ricerca per uno sviluppo sostenibile e lei sostiene lo sviluppo sostenibile è quello sviluppo che risponde ai bisogni del presente senza compromettere le possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri questo è è proprio una una sintesi massima del concetto di sostenibilità quindi siamo tutti più consapevoli del fatto che molti dei prodotti che utilizziamo per migliorare la nostra vita producono un inevitabile impatto sull'ambiente al tempo stesso che oltre che ad agire sul cambiamento dei comportamenti quotidiani tenendo conto delle conseguenze dei nostri consumi appare improrogabile modificare il modello di crescita economica quindi abbracciare un tipo di crescita che consenta uno sviluppo sostenibile che lasci alle generazioni future quello che noi abbiamo ritrovato quando ci siamo affacciati su questo pianeta un altro aspetto cruciale è come sappiamo il ruolo del progetto e quindi noi che ci occupiamo di progetto sappiamo come il ruolo del designer sia cruciale all'interno di questa relazione tra produzione uso e pianeta e ambiente il designer oggi non può esimersi dal pensare che i prodotti che vengono commercializzati debbano andare al di là di una ristretta nicchia di popolazione attualmente diciamo chi si avvicina al design inteso proprio come rapporto tra estetica e funzionalità è il 10% della popolazione mondiale e quindi e che solo il 25% degli abitanti del pianeta ha capito che bisogna avere un consumo un utilizzo responsabile di queste risorse della progettazione quindi questo è un aspetto quello della sostenibilità che è assolutamente come dire è uno dei nostri cammini per chi per chi si occupa di progettazione ma anche come me di comunicare la progettazione e il design non a caso nel 2006 insieme a un'amica collega Clara Mantica e a una serie di persone giovani e non che vengono dal mondo del progetto abbiamo fondato una cosa che si chiama Best Up ve ne vorrei parlare un attimo perché questo circuito per la promozione dell'abitare sostenibile che esiste da 14 anni è stato molto attivo soprattutto per i primi 12-13 anni uno degli elementi che hanno fatto sì che e questo è uno degli aspetti del fare le cose le cose si possono fare bene fino a un certo punto ma poi devi aggiornarti su tutti gli strumenti anche per condividerle e per farle marciare la nostra quello che io chiamo analfabetismo digitale ha fatto sì che a un certo punto riuscivamo a comunicare sì con un sito con degli strumenti anche di comunicazione digitale ma non siamo riusciti a far sì che questa cosa diventasse come si dice oggi virale e quindi a portarla alla maggior espansione possibile questo è uno degli aspetti che infatti ci fa sperare che qualche giovane ci sia vicini e che magari si riesca a fare un un Best Up 4.0 l'associazione promuove l'abitare sostenibile attraverso varie iniziative editoria formazione eventi qui siamo in Cascina Cuccagna ci sono avevamo anche ospiti eccellenti designer che arrivavano dal mondo come Sergio Calatroni che veniva da Tokyo l'assessore alla cultura Filippo Del Corno che allora era al governo della città insieme alla giunta Pisapia e noi abbiamo sempre le istituzioni Comune Regione Assessorato alla cultura Ministero dell'Ambiente ADI anche ADI ci ha sempre sostenuto nelle nostre azioni di divulgazione dei concetti dell'abitare sostenibile tanto è vero che siamo stati selezionati dall'ADI Lombardia Design Codex e poi scelte nel 2013 selezionate anche dall'ADI Design Index nella nuova categoria che era nata Design per il sociale quindi l'apertura di ADI al Design per il sociale al Design per tutti e alla lettura dei parametri di sostenibilità dei progetti è una cosa che risale già per esempio a sette anni fa almeno quindi questa è una cosa che va assolutamente a onorare l'associazione perché essendo fatta di tante persone tanti artefici della lettura dell'analisi dei prodotti un lavoro corale c'è sempre diciamo qualche istanza molto illuminante anticipatoria che poi prende piede e diventa patrimonio di tutti tra i vari percorsi che abbiamo fatto ci sono state queste dieci fuori salone divisi tra i primi cinque anni alla fabbrica del vapore chi non è di Milano magari non conosce questi spazi ma io credo che tutti prima o poi abbiano fatto un salto durante i saloni e fuori salone fino al 19 il 20 è stato per tutti una sospensione dovuta e necessaria purtroppo imposta anche se il fuori salone è riuscito in qualche modo a lanciare un segnale ancora di non solo di sopravvivenza ma di vitalità e di energia usando gli strumenti digitali ci sono stati due momenti nel nel 20 l'autunno e questa primavera del 21 in cui molti showroom si sono attivati quando si poteva magari per poche settimane o per pochi giorni anzi di eventi in presenza ma soprattutto di eventi digitali hanno fatto sì che il filo conduttore rimanesse ora a settembre ci ritroveremo a vivere finalmente ancora un evento nella nella culla del design tra la fiera di Milano e la città e che sarà questo super salone una modalità nuova e che farà da cerniera tra diciamo l'edizione che è saltata e che quindi si rinnova a settembre e la prossima nella quale si festeggeranno i 60 anni del salone del mobile ad aprile del 22 durante i 10 anni degli eventi di best app sull'abitare sostenibile facevamo sempre questa mappa li trovate tutti sul sito le mappe dell'itinerario sostenibile anno per anno erano cartacee perché erano gli anni in cui questo esempio 2011 si usavano ancora molto gli strumenti cartacei che venivano diffusi tra il popolo del design per chi voleva seguire un itinerario con questa lettura dei prodotti per cui non solo il riciclo riuso ma una vocazione al design per il pianeta e al design per tutti seguivano questi itinerari che erano fatti a volte di 140 luoghi all'interno della città le mostre sono state un'altra cosa molto interessante nella quale abbiamo coinvolto comunità di studenti di progettisti le scuole di ogni ordine grado qui siamo con Paolo Ulian che fece nel 2013 una bellissima mostra che si chiama l'essenza e l'eccesso ed era una una mostra che guidava alle scelte che ognuno fa quotidianamente nella vita e che possono peggiorare o migliorare lo stato di salute della terra delle creature che la abitano era una una mostra che si indirizzava molto anche ai bambini non a caso è stata itinerante è andata al museo del bambino alla rotonda della besana a Milano è andata nelle marche adesso è itinerante in Sicilia ancora in una versione nomade dove non ci sono le strutture di legno che reggono le due scelte essenziale ed eccessiva ad esempio qua vediamo il primo piano prendi la lavanda la metti nei sacchettini invece che prenderti il prodotto chimico che sa di lavanda per profumare l'armadio ma così anche la classica l'acqua minerale e l'acqua della brocca l'acqua del sindaco in brocca piuttosto che il prodotto chimico per sborgare i tubi dell'abitazione o il classico costura lavandile e legno e gomma erano degli oggetti molto essenziali e diretti che ti spiegavano che ogni giorno ognuno di noi si trova un video sulle scelte e puoi scegliere una cosa o l'altra e cambiare quindi la tua impronta sul pianeta all'interno dell'associazione vorrei mettere in luce questo genere di cose che è il networking perché saltano fuori una serie di soggetti con cui noi ci siamo interfacciati che ancora possono essere avvicinati da chi avesse voglia di fare una start up in questa direzione per noi per noi sono stati assolutamente cruciali quindi realtà associazioni enti scuole che ci hanno avvicinato per un percorso e poi ci hanno accompagnato per la ricerca e la messa e la messa in pratica di alcune di alcune iniziative interessanti in questo caso abbiamo collaborato siamo stati scelti da Milano Metropoli che era un'agenzia che lavorava per la conferenza interregionale quindi Regione Lombardia legato alla comunità europea per la ricerca dalla culla alla culla quindi credo ogni rifiuto diventa risorsa la fabbrica del vapore questa era la versione ancora in fieri quando i lavori non erano ancora stati terminati e noi abbiamo avuto la fortuna di usufruire di questi enormi spazi per fare delle iniziative molto interessanti in questo caso vedete la preparazione di un evento che si chiamava l'alba di mezzanotte in fondo oltre alla fabbrica c'era l'edificio della Bticino che era uno dei nostri sponsor e dopo l'orario in cui diciamo si stavano chiudendo le iniziative del fuorissalone le persone erano invitate a convergere con un concerto di musica classica e una vocalist e lo studio azzurro proiettava un'alba di mezzanotte sull'edificio della Bticino in fondo le sdraio erano state fornite dai bagni di Rimini tutta la provincia di Rimini ci avevano mandato decine decine di sdraio che in quel momento non servivano perché i bagni erano chiusi glieli abbiamo poi resi quindi è stato uno sharing molto interessante momenti che mi emoziona ancora ricordare in questo caso il networking è stato fatto con la fiera del fa la cosa giusta che esiste ormai da un po' di anni è stata anche ospite di altre città oltre a Milano andata a Bolzano è venuta con noi a Palermo ai cantieri della Zisa abbiamo fatto per tre anni all'interno del fa la cosa giusta che è una fiera proprio degli stili di vita sostenibili si trova tutto dagli strumenti alle modalità di sharing per le biciclette o per l'energia alla casa al verde la casa l'abbiamo gestita per tre anni facendo queste mostre di cui si trovano ancora tracce ed era molto interessante ogni anno trovare delle modalità espositive che accoglie essere il grande pubblico per spiegare i principi dell'abitare sostenibile praticato giorno dopo giorno collega ambiente e fa la cosa giusta un'altra delle grandi sinergie che ha fatto fare dei salti interessanti è stato quello con tutte le scuole di design qui vediamo uno dei nostri esperti di LCA Life Cycle Assessment Leo Breitwell dello studio 2B con 2B abbiamo avuto un percorso che è durato parecchi anni di partnership nell'analisi del ciclo di vita e nelle modalità per comunicare l'importanza di questo ciclo ai giovani che si affacciavano alle università del design e del progetto lui è un grande esperto di Simapro che è uno strumento informatico per leggere il ciclo di vita e per fare delle proposte alle aziende la 2B per esempio ha fatto la LCA alla Lago e con Daniele Lago hanno avuto grazie a Best App che li ha messi in rete una proficua collaborazione che ha portato a cambiare alcuni dei parametri con cui la Lago produceva in quegli anni i suoi pannelli i suoi materiali per i componenti per i componibili stessi del design con il consolato olandese l'Olanda è uno dei paesi più da sempre più attivi nella ricerca e nella diffusione dei parametri sostenibili in tutte le scuole Eindhoven è una scuola di grandissimo profilo loro hanno scelto Best App e quindi con noi hanno fatto 5 anni di eventi questo è uno dei loro padiglioni durante fuori salone in questo caso alla Cascina Cuccagna di Milano che è un luogo assolutamente che celebra la biodiversità da tutti i punti di vista e consiglio agli studenti di Perugia di andarsela a vedere quando vengono da queste parti così fanno un giro al museo del compasso d'oro di Adi e si vedono la Cascina Cuccagna dove possono stare anche in momenti conviviali a sorseggiare qualcosa di buono sui prati e nei tavoli delle corti ma anche a vedere le varie mostre che si alternano sempre nei padiglioncini interni ed esterni della Cascina questo altro network lo segnalo perché Global Network è stato uno dei primissimi movimenti mondiali per abitare sostenibile noi siamo stati scelti come riferimento e siamo diventati O2 Italia quindi Global Network Italia li abbiamo ospitati durante uno degli eventi in Fabrica del Vapore e con con i designer siamo rimasti siamo rimasti in contatto tanto è vero che una delle nostre socie ed è la socia di Milazzo che si è laureata al Politecnico di Milano poi specializzata in comunicazione ambientale lei risiede a Milazzo che è in provincia di Messina lei è diventata la referente per il Global Network dei designer sostenibili planetari a questo punto apro una parentesi diciamo un po' più lieve ma comunque molto significativa di un percorso che può servire a tutti perché nel 2015 ho seguito con alcuni colleghi e degli art director molto bravi che hanno scelto di collaborare per questo progetto il Good Design 2015 il Good Design 2015 si chiamava e si chiama ancora perché è rimasto un format che spero si possa riproporre The Natural Circle quindi l'economia circolare come dialogo tra natura e tecnologia interpretata in una veste poetica quindi mettere in scena per un grande pubblico come quello del fuorisalone ma anche in cascina arrivavano persone famiglie quindi poter declinare il ciclo naturale di processi prodotti in un modo comprensibile è stato un esercizio molto interessante tanto è vero che alcuni di questi buoni esempi che adesso io vi farò vedere in una carrellata un po' veloce perché ci stiamo già avvicinando le due però ci tengo a mostrarveli perché molti di questi progetti sono per esempio stati poi avvicinati senza probabilmente che Paola Antonelli passasse nel 2015 dalla cascina cuccagna a meno lei non l'ho vista ho visto tanti altri soggetti ma quando lei ha curato alla triennale Broken Nature ci siamo ritrovati quattro anni dopo con alcuni dei progetti che noi avevamo e dei prodotti e dei progettisti dei designer internazionali che avevamo già selezionato allora questa cosa mi ha devo dire riempita di gioia e anche di una punta di orgoglio perché vuol dire che ci avevamo visto lungo Pepe Haycock per esempio questi ve li passo in carrellata veloce è laureato alla Design Academy di Eindhoven lavora con gli scarti dei materiali in pratica realizza oggetti nuovi prendendo dei vecchi dispositivi tecnici la pizzatrice piuttosto che vecchi strumenti ma con una loro estetica qualità dai mercatini o dalle case e li rigenera con questi materiali che nascono dal riciclo che imitano il cuoio e che sono fatti di resine di cere e di pigmenti vegetali il Berto Tatenco anche loro hanno avuto un grande successo devo dire sono contenta di aver fatto un po' da eco per loro hanno fatto una collezione di lampade ottenute da riciclo di bottiglie in PET con la forma dei radiolaria infatti la collezione si chiama radiolaria che sono dei piccoli protozoi che esistono che si vedono col microscopio se uno va a guardare dei pezzetti di natura unicellulare Diana Scherer un'altra designer devo dire molto poetica in quel momento ha avuto un grande successo perché lei è un'artista tra l'altro mi fa piacere che Perugia unisca le competenze tecnologiche con quelle artistiche perché l'arte può far decollare dei progetti tecnologici in modo assolutamente sorprendente e l'unione tra lo sguardo artistico proprio l'intuizione uno sguardo allenato alla natura e all'arte può dare delle forme a delle start-up tecnologiche impensabili lei praticamente ha piantato dei semi dentro dei piccoli vasi di varia forma poi a un certo punto ha rotto i contenitori dei vasi che poi riusa per fare degli altri prodotti in collage e ha lasciato le forme vive della terra con le radici che le tengono insieme e in pratica sono diventati dei vasi vegetali al 100% da tenere insieme con delle reti di materiali naturali come delle fibre delle fibre vegetali Eric Clark anche lui pura sperimentazione è stato la prima volta che si vedeva all'interno di un evento del design che si vedevano dei prodotti a base di micelio il micelio project in pratica è un modo innovativo di applicare la stampa in 3D sfruttando il micelio che è l'apparato vegetativo dei funghi questo genere di progetti li abbiamo visti anche al Broken Nature della Paola Antonelli Intriennale c'erano presenti nella nostra selezione anche molti designer che venivano dall'Oriente questa è una donna una giovane designer di Taiwan laureata anche lei ad Eindhoven alla Design Academy che ha fatto un progetto poetico molto interessante impastando acqua cellulosa vi ricordate la carta pesta ecco una carta pesta sottile che ha utilizzato come calco di antichi piatti delle varie tradizioni olandesi che sono maestri nei tipi di diciamo di strumenti di piccoli oggetti per la tavola forse anche grazie al fatto che gli olandesi hanno girato il mondo nelle loro colonie a lungo e quindi hanno portato grandi tradizioni sia nella porcellana che nel vetro che nel metalli e lei come risposta all'usa e getta i classici piatti da picnic ha creato questi con una carta pesta sottile molto piacevole Marianne von Neubel è un'altra che ha avuto un grande successo dopo e che è stata ripresa dalle mostre internazionali in pratica un tavolo ne fa sette cioè questa è la sua idea cioè da un tavolo fai sette elementi partendo dalla costruzione in legno di un tavolo lei diceva salvo le gambe ma il piano invece lo attraverso un processo meccanico particolare lo polverizza lo mischia a delle resine vegetali questo materiale diventa un espanso per cui la componente del legno fa da base ma tutto il resto va a completare altri sei elementi quindi diventano sette con lo stesso piano dello stesso tavolo una vicinanza col mondo animale è cominciata già nei primi anni del 2000 nel design ci sono stati molti progetti che si sono avvicinati alle forme e alle modalità di vita e di sopravvivenza del mondo animale Schoener ne fa qui una metafora Thomas Markupoica anche lui è un altro molto interessante un designer che ha che ha analizzato finlandese che ha analizzato il modo di fare delle nuove collezioni artistiche voglio dire non pensiamole in una casa come elemento di contenimento di seduta ma come un oggetto d'arte invece in un grande spazio sono fatte banche in uno spazio diciamo dell'oggi purché ci sia una parete vuota sono molto interessanti le ha realizzate solo con dadi e bulloni di recupero dei ferramenta a proposito di mondi animali questa Ninke Hugwielt ha trovato il modo per mettersi d'accordo con un'azienda che lavorava il pesce e nel nord Europa ce ne sono molte Norvegia Danimarca eccetera e con gli scarti di lavorazione del pesce lei ha realizzato delle sorti di rivestimenti che sembrano pelli in realtà sono scarti della pelle mischiati a delle altre resine vegetali così come gli scarti animali che poi ci ritroveremo ve ne parlo quando vediamo la Giulia Berra questa è Altalen un gruppo di designer che hanno ripreso degli scarti animali per fare dei complementi degli accessori di moda dall'artigianato all'arte all'industria vera e propria le presenze non sono mai mancate di industriali che hanno sostenuto questi eventi sull'abitare sostenibile Boffi con Patricio Orchiola ne dà qui un esempio a mio parere di altissimo livello il punto di forza dell'azienda Boffi è sempre stata la ricerca e la sperimentazione e questo è stato un caso che abbiamo poi avuto il privilegio di esporre al Good Design 2015 la nuova cucina Salinas dove la Orchiola ha combinato alcuni elementi ecosostenibili perché ha preso un tubolare metallico a vista da riciclo e riciclabile per la struttura degli elementi modulari per i pensili le mensole e i cassetti in fibre di legno tutto certificato FSC il piano di lavoro in lava vulcanica e quindi insomma a tutti gli effetti chapeau per il progetto della Orchiola Roberto Pugliese l'ho inserito nella rassegna perché è stato il primo esempio di un lavoro che poi Listone Giordano ha esplorato e continua a esplorare in modo magistrale è una ricerca con sensori applicati a elementi naturali come un tronco di un albero e attraverso degli strumenti elettronici c'è la possibilità di percepire il suono della materia Listone Giordano ha applicato questa tecnologia ai boschi delle sue produzioni di pavimenti in legni certificati meravigliosi e devo dire sentire un bosco che suona è un'esperienza voi di Perugia che siete vicini alla zona dove sta Margaritelli potreste fare un giro vale la pena Giulia Berra ne parlavo prima a proposito dei cappelli fatti con le piume degli animali molto divertente come metafora ma anche molto belli da indossare Giulia Berra è cresciuta con noi io sono molto orgogliosa questa giovanissima designer era appena uscita dalla facoltà del Politecnico e la sua ricerca stava già abbracciando allora come costruire degli oggetti che fossero anche delle piccole sculture ecocompatibili la sua opera adesso Giulia per esempio a Berlino dove ha vinto una borsa di studio sta realizzando delle installazioni meravigliose è nata così assemblando insetti e piccole parti di animali che si trovano in natura già così come sono senza uccidere gli animali per prendere penne e piume ma lei li raccoglieva a fine vita da terra dai parabrezza delle automobili si era messa d'accordo con un allevamento un'oasi di farfalle e quando le farfalle lasciavano lasciavano il mondo il mondo vitale per lasciare delle crisali o delle meravigliose ali sul suolo di queste serre le vedevano date in alcuni contenitori lei li ha sempre assemblati e ha fatto delle cose veramente poetiche e meravigliose così come questo gruppo sperimentale che costruisce delle carte da parati con restituzione fotografica su cellulosa lino e raffia trove così come questo lavoro che io ho trovato molto poetico ma efficace per comunicare la penuria del verde nelle città si chiama il progetto era proprio il verde pro capite si chiamava verde pro capite quindi quello che noi vedevamo in questa stanza era il verde pro capite che ogni singolo cittadino di Milano aveva a disposizione allora dai 17 ai 23 metri quadri praticamente una quanto il pavimento di una camera da letto e quindi insomma insufficiente diciamo per creare un equilibrio tra co2 e aria respirabile era molto divertente vedere come con la lana tricottata a mano avessero generato questi un gruppo di designer hanno messo in piedi questa installazione molto efficace le lampade di Sabina Belfiore e Lucovich riprese dalle luminarie delle tradizioni del sud Italia delle feste religiose con micro led di ultima generazione e rame rendevano poetica qualunque parete della cascina e di gallerie d'arte questi questi giovani ragazzi che hanno un nome per noi scurrile Fica Festival in realtà è un modo in Scandinavia di dire prendersi una pausa un festival della pausa dove oggetti anonimi venivano reinterpretati con delle ceramiche da riciclo il Davide Aquini un altro designer oh me lo son perso dove è finito eccolo qua il Davide Aquini ha fatto questa collezione in multistrato di Pioppo FSC io continuo a parlare di FSC che sta per Forest Stewardship Council ed è la certificazione del legname ma non solo del legname di tutta la sua provenienza di come una foresta viene gestita nutrita e poi di come la foresta dà il prodotto legno per diventare architettura bioprefabbricata per diventare arredo eccetera lui usava appunto questo multistrato di Pioppo con materiali da riciclo cementi e poliuretani riciclati e anche questa cosa aveva avuto un discreto successo perché per la sua linearità e durata e resistenza The Craft un altro gruppo si chiamano in pratica loro dal chiodo alla città vanno in giro per i cantieri a fine cantiere si mettono d'accordo con gli operai del cantiere e tutto quello che il cantiere butta lo recuperano loro con un furgone e realizzano lampade e oggetti Foscarini un'altra azienda di tutto rispetto proprio per farvi vedere la declinazione insomma di come un evento sull'economia circolare non può che mettere insieme le industrie l'arte l'artigianato al design e all'elaborazione dei materiali Foscarini portò per un oggetto simbolico ma molto interessante la lampada Tuareg che sembra stilizzare un albero lampade da terra sembrano tanti alberi nel bosco sono elementi tubolari in metalli riciclabili sorgenti a led e la stessa forma ne consente la tenuta e la diffusione mocca un gruppo di designer che lavorano insieme a degli architetti per assemblare case a basso costo questo ovviamente non è una casa vera era un un allestimento per far vedere i materiali su cui loro lavorano che sono il bambù la terra cruda panapa e paglia panapa canapa e paglia come ripetivi calce e altri materiali ma l'effetto dell'allestimento era davvero singolare perché tu potevi toccare con mano ogni singolo materiale degli strati multiformi della casa della casa ecologica Essential cuscini in fibra di cellulosa lavabile cartone FSC so che avete incontrato prima di me Giorgio Caporaso che è un designer è stato amico e collaboratore nostro in vari eventi ovviamente vi avrà parlato del magico mondo del cartone riciclabile della cellulosa anche di durata diciamo alle intemperie e nelle scuole quindi anche a un uso massivo l'arte si effusa spesso con la musica e il teatro negli eventi è sempre importante creare anche una pausa effettiva negli spazi se lo spazio lo consente scusate qui abbiamo nelle altre la vecchia falegnameria era stata data a un architetto che lavora in legno per fare i suoi progetti di interior design Camilo Lentini di Archicam e lui si era ricostruito uno studio come allestimento si è ricostruito il suo studio ogni oggetto fatto da lui era l'esempio di come poi lui gestisce il progetto Matteo Morelli fa parte di una produzione consistente si chiama Mosaico Digitale quindi aveva disegnato per noi il ciclo di vita di prodotti e servizi a modo suo alludendo al ciclo della natura e ha fatto poi realizzare dalla sua linea produttiva del Mosaico Digitale questi pannelli in tessere mosaiche che poi sono state applicate alla Cascina dove ancora sono cioè i muri della Cascina adesso due dei muri che erano ciechi sono rivestiti con questi due bellissimi pannelli Matteo Morelli con Mosaico Digitale sta realizzando li ho incontrati anche all'ultimo Casa Clima di Bolzano con dei loro progetti e stanno facendo delle installazioni urbane ecocompatibili molto interessanti l'Uovo Design invece è un gruppo di lavoro che lavora sulla materia organica delle api quindi favi dalle arnie e miele e l'Analisa Mantovani vado un po' veloce se no non abbiamo poi più tempo realizza dei tremperi della parete con colori a olio olio di lino puro dipingendo direttamente sulla parete questi esempi di natura per una filiera sostenibile seletti ritorniamo all'industria qui allude al bosco con un delizioso paravento molto interessante però il progetto era uno dei primi progetti di Alessandra Baldereschi che è una designer che adesso sta facendo delle cose molto significative quindi autoportante in lamiera e tondino di metalli riciclabili Soin Kang una designer sudcoreana che è impazzita in Italia per in tutta l'Europa devo dire ha cominciato a girare i mercatini e a trovare elementi che assemblava in modo poetico quindi fa del riuso una sua arte Giuse of Italy è stato il primo gruppo a lavorare sulla e-commerce di massa una community di makers piccoli produttori indipendenti e designer diffusi su tutto il territorio nazionale italianissimi hanno trovato tutta una serie di prodotti alcuni se li sono fatti fare da artigiani altri li hanno trovati già da piccole produzioni hanno costruito questa rete Giuse of Italy quindi il succo dell'Italia in vendita online l'ultimo progetto Smarè una francese che ha realizzato questi elementi componibili con feltri da tessuti riciclabili e un'interlagliatura smontabile il mio percorso velocemente volevo parlarvi di un aspetto che poi non poteva che avvicinare la mia attività e una parte della mia vita che è l'impegno ambientale quindi tre esempi veloci uno è il progetto darsena pioniera con altre progettiste urbaniste designer e agronomi abbiamo suggerito al comune di Milano purtroppo poi ci ha bypassato l'expo e quindi siamo stati smaccatamente messi da 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 un canto dagli interessi economici pressanti dai tempi febbrili dell'expo peccato perché avevamo già ottenuto molto consenso dalla municipalità per rivitalizzare la darsena tenendo un'oasi al centro intorno a un progetto che è stato fatto da un gruppo di progettisti molto interessanti che erano partiti dal progetto che vinse il bando del comune Bauden con Rossi Guazzoni e altri purtroppo questa non è andata a buon fine le mie attività nei quartieri che continuano a tutela del verde ma non solo vedete bevo un goccio di tè spero che ci siate tutti ancora lì perché io qua non vedo più nessuno ci siete ma speriamo che mi sentiate sì sì ci siamo ah eccolo no perché queste cose da remoto dove uno vede il suo schermo dopo un po' perde no dico madonna magari ma mi staranno ancora seguendo allora il gruppo di C40 ci tenevo a parlarvi perché è nato con 40 città Milano rappresentata dal nostro sindaco Sala il gruppo di lavoro è stato messo in piedi coordinato da una serie di soggetti tra cui Caterina Saffatti che è sempre stata molto vicino all'ambito del progetto sostenibile è una realtà che invito chi è interessato a vedere cosa sta succedendo di sostenibile nel tessuto urbano a redi urbani mobilità utilizzo diverso delle delle piazze dei cortili degli spazi pubblici è una realtà davvero interessante gli orti urbani sono oggi uno degli aspetti diciamo l'orticultura e in questo devo dire che il giardinaggio che unisce il prodotto per l'agroalimentare può generare delle cose molto interessanti nelle città proprio anche favorendo una delle piccole economie di prossimità di scala di prossimità ma è diventata una presenza assolutamente armoniosa e poetica su pareti su tetti c'è un gruppo a Milano che si chiama Più Arc la sua sede ha un tetto piano è diventato un orto che loro coltivano che nutrono continuamente che poi serve per farsi gli spuntini nella pausa pranzo e Più Arc fanno dei progetti di grande interesse questo è uno dei progetti ultimi che io ho seguito insieme a delle colleghe che si occupano di hard direction e comunicazione e che è stato selezionato l'anno scorso nel 20 dal Rosano Orlandi all'interno del suo evento sul end dell'awareness sound communication cioè praticamente sulla no plastic e attenzione a consumi sostenibili è un progetto che è nato nel 19 pre-pandemia e io trovo ancora molto attuale infatti ci sono affezionata e mi piaceva lasciarvi con questo con due immagini suggestive che dopo vi faccio vedere praticamente il progetto si chiama End of Waste fatto da quattro donne tra cui la sottoscritta per generare un osservatorio in progress sulla sostenibilità dei grandi eventi ecco partire dal fuorissalone che nel 19 è stato l'ultimo grande fuorissalone adesso vediamo questo autunno cosa si profila ma aveva 1300 iniziative nella città quindi vi potete immaginare il carico la massa di persone logistica cose che attraversavano ogni singola porzione di città anche devo dire con un senso ogni tanto di affanno e quindi da questa riflessione pensando a una maggiore responsabilità e un cambio di paradigma abbiamo tracciato un'ipotesi molto interessante che purtroppo poi è cozzata contro la pandemia quindi ci siamo ritrovati a non avere interlocutori perché il salone e poi il salone non si facevano però Rostano Orlandi che è una delle regine del fuoristalone milanese molto lungimirante acuta osservatrice del presente ha scelto questo progetto nella sua carrellata che è riuscita a fare nel break tra il lockdown 1 e il lockdown 2 al museo della scienza della tecnica di Milano e devo dire sono molto contenta questi ultimi due momenti che vi faccio vedere degli eventi design ve ne parlo solo perché erano in contemporanea alla prima conferenza design economia circolare innovazione sostenibile che tenemmo nel 2015 e a cui partecipò il consolato olandese come vi dicevo sempre stato molto attento alle stanze di sostenibilità alcuni personaggi come Ed Van Hinte che è uno degli artefici di questo Noye Institute Material Ponds quindi un ente olandese che studia l'evoluzione dei materiali per lo sviluppo sostenibile tra gli italiani Jonathan Gatto designer molto innovativo che lavora con micro batteri e altre micro particelle naturali per generare tessuti ed elementi per il design Frida Dovail un'italiana progettista autrice di analisi su riparabilità e durabilità quindi nuove frontiere della qualità fa parte di questo studio di corporate identity e design fragile che vi invito ad andare a vedere durante una delle giornate di chiusura furono presenti con noi anche Dario Fo premio Nobel della letteratura e lo Stefano Boeri che vennero a discutere quello era un momento cruciale durante l'expo e quindi c'erano i pro e i contro l'expo ma è stato uno dei momenti molto interessanti a cui partecipare grazie per l'ascolto di questa relazione lo scrivo come contributo di un'amica progettista che fa la disability manager nel linguaggio anche dei segni e nel braille perché le nuove frontiere della comunicazione sostenibile prevedono una comunicazione inclusiva al 100% quindi di poter comunicare anche a chi non ascolta i suoni e anche a chi non vede le immagini in un modo trasversale e utilizzando degli strumenti ad hoc è una cosa che sto studiando adesso e magari ne parleremo a un prossimo incontro grazie vediamo se eccoci eccoci grazie ho fatto arazzo perché avevamo perso 20 minuti prima e mi sarei voluta soffermare su altre cose però come prima carrellata spero di aver dato degli scuri ditemi se ci sono domande assolutamente intanto ringrazio rinnovo i ringraziamenti all'architetto Giuliana Zoppis grazie ci ha dato degli esempi di valorizzazione degli scarti e quindi esempi di ecodesign che da cui spero gli studenti tragano degli spunti di riflessione anche per le tematiche perché poi andranno ad affrontare durante la laurea magistrale in design per la vita per la vita del pianeta in planet life design ci sono domande riflessioni beh intanto spero di riuscire a venire alla presentazione di questo planet life design al biennio ci tengo tantissimo perché è una prima diciamo è un momento interessante perché sono poche le facoltà io ho in mente Camerino che aveva cominciato a introdurre questo genere di ricerca così Milano e Torino però non così orientato al design per il pianeta come state facendo voi vedo una domanda Aurora sì allora io avrei una domanda sia per l'architetto Zoppis che per l'architetto Pampanoni per l'architetto Zoppis volevo chiedere più che altro una curiosità secondo lei cioè si arriverà ad un punto in cui tutta la produzione sarà sostenibile o è un punto a cui non si potrà mai arrivare ci sarà sempre qualche azienda che potrà non in questo modo ma è una risposta cioè la risposta è molto difficile nel senso che è certo che il mondo del progetto sarà sempre più orientato a questi valori del cradle to cradle quindi di una di una progettazione circolare per dei manufatti durevoli e sostenibili ce lo impone la situazione attuale così come ricordo tanti anni fa quando si è cominciato a parlare all'interno del mondo del progetto di design per tutti e di ergonomia sembrava una frontiera assolutamente sperimentale poi è diventato un assunto anzi ci sono degli ambiti dove questo genere di paradigmi del progetto sono d'obbligo se pensiamo alla scuola alla sanità ci sono degli ambiti dove l'accessibilità e l'ergonomia sono diventati legge ecco io mi auguro questo diciamo non aspetta i testisti fanno la loro parte gli utenti faranno la loro parte ma i governi e le amministrazioni governative che determinano le leggi devono fare la loro perché l'uomo la donna insomma gli umani hanno bisogno spesso di un pungolo come dire di essere anche messi di fronte a degli obblighi assoluti che impongono delle scelte a cui dopo si abituano anzi e spesso si rendono conto dell'utilità ma lo abbiamo visto in tanti aspetti tutta la ad esempio i sacchetti di plastica l'utilizzo solo adesso nei supermercati da quando la comunità europea ha imposto questa cosa vi dicevo il packaging è il primo punto che è stato reso paradigmatico anche da leggi così come le lampadine ecco solo adesso si comincia a intravederne l'utilità la praticità e tutto sommato che anzi non cambia la facilità dell'utilizzo ma sicuramente cambia molto per il pianeta grazie grazie per la risposta l'altra era invece l'architetto Pampanone aveva detto che si occupava se non sbaglio di design del lavoro per curiosità è un aspetto del design di cui ho sentito poco parlare cioè di che cosa si occupa nella pratica allora i casi della vita mi hanno portato a collaborare nel primo periodo della mia attività professionale con un consulente di layout industriali con questo consulente io iniziai lui era un consulente di impianti fotografici in un periodo in cui lo sviluppo e la stampa venivano gestite in grandi impianti sparsi per l'Italia molti di noi si ricordano che portavamo le pellicole al QSS e poi ci venivano restituite le stampe la mattina dopo io ho lavorato con questa persona lavorando sui tempi e i metodi dei cicli produttivi a questa esperienza ho trasporto questa esperienza per combinazioni casuali della vita alla progettazione dell'ufficio e ho applicato questi metodi di analisi del lavoro dei flussi e oggi ad esempio in questi due giorni sono a Milano nuovamente per degli incontri per chiarire ancora i contenuti delle tecnologie IoT cioè quelle tecnologie che ci danno oggi la possibilità nei luoghi di lavoro di prenotare sale riunioni di definire quali postazioni sono libere occupate oppure quali sono le linee di flusso maggiormente presidiate o affollate queste esperienze di natura industriale tipicamente industriale nella progettazione dei layout degli uffici poi hanno offerto a me come designer perché la mia passione era stata sempre quella fin dall'inizio di progettare mobili e attrezzature per il mondo dell'ufficio siamo in pochi in Italia perché poi dovete sapere e Giuliana Zoppis ve lo può testimoniare dal suo osservatorio che i designers quelli che fanno tutto sono veramente pochi ci sono dei filoni ci sono i designer da cucine quelli bravi negli imbottiti quelli per i mobili da ufficio io mi sono specializzato in questo quindi nel mio studio noi progettiamo scrivanie pareti in vetro per uffici sistemi acustici o attrezzature corpi illuminanti o imbottiti acustici per la riunione in un momento in cui il mondo del lavoro e lo vediamo in questa conferenza che due anni fa avremmo svolto in una delle aule dell'Università di Perugia oggi siamo sparsi un po' qua e un po' là tutti quanti ma ciò non di meno diminuisce l'efficacia dei contenuti che vi vengono trasmessi il design del lavoro è un po' è un po' questo oggi stiamo lavorando moltissimo sulle nuove modalità di agile landscape oppure di smart work più semplicemente cioè oggi riusciamo a lavorare indipendentemente dalla scrivania Giuliana Zoppis sta nella sua casa io sto in una stanza d'alberco Andrea Iandoli sarà nel suo studio la professoressa Pezzolla starà in università e voi non so dove siate oggi possiamo lavorare così un grande una grande scommessa per i progettisti oggi è progettare non più spazi chiusi e quindi layout definiti come io ero abituato a progettare tanti anni fa ma oggi parliamo di layout diffuso cioè oggi il progettista deve progettare cose che stanno in un'abitazione ma che poi hanno relazione nel web e poi negli spazi di lavoro oggi il design del lavoro è cambiato moltissimo e noi stiamo cercando di diciamo definire gli strumenti per poter consentire a tutti di lavorare meglio pensate anche che oggi la funzionalità non è più l'assetto distributivo di uno spazio non è più in orizzontale ma è anche verticale in ufficio perché si sta tornando al al concetto dei piani elevabili elettricamente un po' come lo erano i tecnigrafi ai tempi nostri ai tempi insomma dei relatori che siamo un pochino più diciamo di esperienza ecco potremmo dire ma che abbiamo vissuto il tecnigrafo e la variabilità in altezza della postura oggi l'ufficio moderno prevede quindi il layout dell'ufficio prevede che si possa lavorare ad altezze diverse un po' questo e come dicevo prima lo faccio da Lumbria anche se in questo momento sto a Milano perché mi sto opponendo all'emigrazione non mi oppongo al viaggio perché dovete essere sempre curiosi e grandi viaggiatori nei limiti delle possibilità di ognuno però vorrei anche riportare in Umbria cose oppure creare un indotto significativo di creativi in Umbria perché Milano è una grande fucina ma non è che possiamo star tutti a Milano grazie per la risposta ora è chiaro vedo Rita si è prenotata io volevo fare una domanda all'inizio ma credo che mi sia stata data la risposta quello che volevo dire è che spesso l'impressione che l'atteggiamento che le persone hanno di fronte a questo problema è un atteggiamento negativo e spesso passa quasi la voglia di provarci in qualche modo ad avere un atteggiamento mi viene da dire esiliente nei confronti della sostenibilità ambientale o dei rifiuti e quindi volevo ringraziare l'architetto per la presentazione che ci ha fatto vedere perché penso siano stati tanti esempi che veramente in qualche modo mi fanno pensare che qualcosa possiamo fare che non è del tutto inutile quello che possiamo fare noi come progettisti ma anche come esseri umani quindi grazie grazie per la presentazione grazie a te Rita mi permetto a questo riguardo di aggiungere una cosa io che sono molto legato alle aziende di produzione perché mi occupo di prodotto industriale già da qualche tempo noi stiamo predisponendo delle schede per ciascun prodotto che definiscono perché questi sono i parametri anche più significativi per la vendita dei prodotti soprattutto nel caso di grandi forniture sono schede che definiscono i materiali vergini impiegati i materiali da post consumo impiegati e la riciclabilità totale del prodotto che viene progettato stamattina mentre venivo su da Perugia ad un certo punto mi sono dovuto fermare per una revisione di tesi con una studentessa che proprio nel suo progetto predisporrà una scheda in cui valutare quanto materiale nel suo progetto è ottenuto da post consumo da materie vergini e quanto verrà diciamo riciclato questo non è un dato ideale non è fantascienza oggi le aziende lo stanno applicando perché è motivo di migliore vendita e migliore oltre che un motivo di sostenibilità e di affermazione di economia circolare ma è anche un motivo di successo del prodotto grazie mille posso chiudere con una proprio a partire da questa suggestione che ci fa il Pampanoni e di questa informazione interessante infatti mi piacerebbe anche poi interfacciarci avevo messo da parte i parametri delle schede di lettura dei progetti dei prodotti e dei materiali che abbiamo messo appunto come commissione sostenibilità dell'ADI a cui si sono alternati vari colleghi a partire da Roberto Marcatti all'Aida Castiglioni a Silvia Piardi all'autoscritta ci siamo esercitati proprio per capire come definire le qualità sostenibili dei progetti all'interno dell'index che poi va anche al compasso d'oro e avevamo messo giù una serie di parametri che erano questi una specie di carta di identità materie prime reperimento e minimo utilizzo salubrità nel processo produttivo e nell'uso perché c'è anche la salubrità dei lavoratori che compongono che contribuiscono a fare un prodotto non solo a quelli diciamo di chi poi delle persone che li usano il packaging ecocompatibile minimo in drogno la fruibilità quindi l'accessibilità e l'ergonomia che sono aspetti tra l'altro fondamentali dove il mondo del lavoro oggi si interfaccia con la casa e va ad attingere diciamo dai passi avanti che piano piano le aziende hanno fatto nei prodotti per la casa a maggior ragione verranno assimilati nei componenti negli arredi per il mondo del lavoro che abbiamo visto che in qualche modo trasmigra e si interfaccia anche con quello della casa e sarà molto interessante capire l'evoluzione la sicurezza sempre sicurezza come la salubrità sicurezza processo produttivo e uso la durata e questo è appunto parametri LCA riciclabilità di materiali e componenti quindi sia quello che si usa deve essere riciclabile ma anche quanto di quello si usa è davvero riciclato e qui sarà interessante vedere magari i valori che otterrete voi la parte di dismissione quindi ogni oggetto deve essere disassemblabile per entrare nei cicli conseguenti poi ci sono gli ultimi tre punti che sono l'efficienza cioè vuol dire che un oggetto si interfaccia anche nei rapporti con i consumi che genera perché ci sono delle cose che generano dei consumi di energia la manutenzione quanto è possibile manutenerlo quindi farlo durare di più se si rompe solo un componente di tutto il prodotto e la parte finale appunto e quindi ecco la carta di identità sarà cioè a cui abbiamo lavorato e insomma che è perfettibile sarebbe interessante interfacciarsi per avere ulteriori contributi dei parametri grazie Pampanoni di questa informazione io volevo soltanto sottolineare quando si parlava appunto dell'attenzione che ha avuto l'associazione che ha avuto l'Adi nei confronti di tutte queste iniziative legate alla sostenibilità che già nel 1987 l'Adi quando con presidenza di Angelo Cortesi e Giancarlo Ilibrandi ha pubblicato il design memorandum che fu un grandissimo diciamo strumento in cui appunto furono raccolte tutte delle considerazioni su una progettazione etica questo diciamo documento è stato poi rivalutato nel 2013 aggiornato con dei nuovi punti ed è un pochettino l'elemento diciamo centrale dell'attività appunto della cultura che l'Adi fa attorno alle tematiche della sostenibilità che appunto nascono da lontano volevo anche sottolineare che questo intervento che appunto Giuliana Zoppi si ci ha fatto molto completo mi complimento perché ha dato un senso di grande apertura diciamo rispetto alle problematiche che sono legate alla sostenibilità e come avete visto ne fa anche un lavoro che a livello come dire globale quindi con delle connessioni col sistema sia europeo ma anche con dei sistemi a livello diciamo più grande e questo poi ha portato anche ad essere ambasciatrice per l'Italian Design Day ad Addis Abeba in Etiopia nel 2018 sempre sulle tematiche della sostenibilità e quindi diciamo soprattutto questo diventa molto interessante perché il discorso secondo me della sostenibilità è importante che possa in qualche maniera interfacciarsi con realtà dove lo sviluppo industriale lo sviluppo in generale sta avvenendo in maniera più veloce e pressante quindi portare in un come dire allargare portare in queste aree la nostra cultura la nostra sensibilità che viene appunto da una stratificazione culturale diventa una cosa fondamentale se pensiamo in un ragionamento diciamo globale di pensiero che la sostenibilità appunto debba avere una visione globale e non certo localizzata perché non risolverebbe nessun problema grazie 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 a tutti è stata una chiosa perfetta devo dire anche il riferimento agli Italian Design Day che col Ministero degli Esteri e Adi stanno portando avanti e che ci danno l'opportunità spero che si ricomincerà a viaggiare in sicurezza e quindi a partecipare ancora a queste a questi incontri tra culture perché per me è stato l'incontro con la cultura che io non conoscevo etiope ad Addis Abeba illuminante è stata un'esperienza bellissima tre incontri uno con la facoltà di architettura uno con l'istituto d'arte e l'altro con l'istituto europeo di cultura mi sarei voluta fermare un mese devo dire a studiare con loro tra l'altro bravissimi tutti giovani professori molte competenze molta intelligenza grazie 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 ancora e complimenti a presto grazie grazie arrivederci a tutti ci vedremo a Gubbio spero speriamo sì e ad Assisi e ad Assisi arrivederci grazie 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti